La sanità del futuro passa attraverso l'integrazione digitale alla realizzazione di un sistema in rete che possa coinvolgere tutti gli attori del settore e questa la sfida da vincere per garantire ai pazienti un'assistenza e una cura sempre più efficace e di qualità. Ed è stato il tema principale affrontato durante la tavola rotonda che si è svolta lo scorso 5 ottobre a Lucera. La digitalizzazione è uno strumento indispensabile ormai nei sistemi sanitari complessi. In questo senso la regione sta facendo degli importanti investimenti che il nostro servizio informatico sta portando avanti anche di potenziamento dell'attuale rete della stessa centrale di cui parlavo prima. Quindi la strada è quella già tracciata, gli operatori sono già impegnati, è una strada che assolutamente percorreremo. Un incontro con un unico obiettivo, quello di poter legare ospedale e territorio a 118 in modo che possano funzionare e interfacciarsi il 2023, un anno importante per la Puglia perché dovrebbe vedere l'istituzione del numero unico delle emergenze, il 112, grazie al quale numero si potranno abbattere circa il 60% delle chiamate inutili e garantire uno snellimento del lavoro degli operatori. La novità è che tutte le informazioni saranno geolocalizzate e direttamente inviate al centro elaborazione dati del Viminale. Inoltre il servizio garantirà una traduzione simultanea e sarà fruibile anche dai non udenti. Il problema attuale è proprio quello della mancata interconnessione tra l'ospedale e il territorio. Per quanto riguarda il discorso digitale, il 118 è all'avanguardia, però poi una volta che l'ha malato il paziente arriva o alle porte dell'ospedale oppure alle porte della sua abitazione, allora l'informatica naturalmente si ferma e naturalmente viaggiamo nel buio. Cercare naturalmente di interfacciare le varie componenti in modo tale che ad un clic tutto venga attivato e coordinato. Altro tassello importante è affrontato quello dei fondi del PNRR con la Missione 6, la Missione Salute, che prevede un ingente investimento di oltre 15 miliardi per la sanità, di cui oltre un miliardo per l'istituzione di postiletto di terapia intensiva e subintensiva, ma anche fondi importanti per l'attività territoriale. L'obiettivo è quello di cercare di evitare l'eccessivo ricorso e il sovraffollamento ai pronto soccorso in modo che il pronto soccorso col personale che purtroppo è limitato a disposizione possa assolvere meglio le proprie attività che devono riguardare le emergenze, le urgenze e comunque le situazioni critiche che non deve essere dedicate alle situazioni che possono essere trattate sul territorio. e quindi il potenziamento dell'assistenza territoriale avrà un riflesso positivo anche sulla gestione delle emergenze.